mh sua maestà ho proprio fame cosa c'è di buono oggi semplice sus vediamo cosa c'è di buono per oggi ed eccoci qui incredibile in padella ed eccoci qui incredibile assurdo e altre parole assurde ecco eccoci qui incredibile però dobbiamo sempre abbassare la musica ma gnaggio la miseria che non mettiamo mai bene audio della nostra telecamera incredibile salutiamo il camera e l'audio del nostro database incredibile che lo so si chiama computer però noi lo cambiamo a database tra poco ecco fatto aggiustata la musica abbiamo pure acceso le luci perché non si vede niente ed eccoci qui incredibile in un nuovo episodio di quattro la campagna come al solito il nostro luogo incredibile salutiamo sus e succhiate ecco bravo sus che dice sempre succhiate perché rafforzare il concetto è sempre importante vero sus mamma mia eccoci qua pazzi il camera e allora di cosa parleremo incredibile questo video subito partiamo velocissimo così il video non verrà di mezz'ora a meno il camera infatti non si arrabbia il camera perché purtroppo il camera non sta bene vero sus vabbè quello sempre non è normale nella vita del camera no dissociamento ecco appunto dissociamento e però è raffreddato e c'ha mal di gola e quindi dobbiamo fare un video un po più breve che per i nostri standard sarà mezz'ora sono stati aiuti ecco ovviamente cercheremo di farlo un pochino più breve però andiamo sempre diretti ai concetti come delle frecce che puntano il bersaglio non vuol dire un cazzo ma va bene lo stesso piccola intro come al solito per l'editing incredibile allora dovrebbe essere uscito la rione pazzesca incredibile sulle waifu di hongkai insomma sui personaggi di hongkai e siamo contentissimi e questa cosa non la diciamo tipo da 50 video quindi ci possiamo permettere di dirlo intanto se vi piace quello che portiamo sus scrivetevi a questo canale che dico sus scrivetevi altro che iscrivervi vi dovete sus e poi scrivervi avete capito non è difficile ci potete arriva vabbè se non vuol dire un cazzo un giorno faremo le magliette che ho scritto non vuol dire un cazzo troppe idee abbiamo comunque che dico pazzesco e quindi se volete sus scrivervi iscrivete mettete mi piace mi piace il video che abbiamo detto stavolta tra qui non lo diremo per una marea di tempo così almeno non non passiamo per quelli no in realtà no ok noi siamo già famosi mi ha fatto una marea di visual pazzesca incredibile siamo già 4500 visual totali per il canale sono fortissimi ragazzi oh the tool mille iscritti attento mille iscritti che arriviamo subito comunque pazzesco incredibile di cosa parleremo oggi come sapete ci siamo una settimana ci siamo riposati un pochetto non abbiamo sono usciti i video perché quella settimana il vostro schedo incredibile si è ripreso e io e sus abbiamo proprio ce ne siamo approfittati per vederci qualche serie incredibile ne abbiamo scelte due per farci intanto due episodi di quattro chiacchiere incredibile uno è una serie e uno è un anime incredibile di cui però prima dobbiamo insomma controllare il manga un attimo incredibile e oggi parleremo della serie che abbiamo visto esatto una serie un po horror e un po un po così dalla parte ci è piaciuta dall'altra si poteva far molto meglio mannaggia a voi stiamo parlando di il cabinetto di cabinetto of curiosity che insomma nella lingua nostra sarebbe tipo il gabinetto della curiosità che insomma se lo traduci non perde tutto insomma stai mi aiuti esatto stiamo parlando di dei cabinetto of curiosity una serie molto molto spicy che si è arrivata ad essere spicy a metà circa comunque prepariamo allora direi di aprire il nostro pdf incredibile e niente parleremo un po di questa serie incredibile come al solito quindi cosa ci è piaciuto insomma la solita chiacchierata frastronzi qui taglio incredibile e vediamo di cosa parla eccoci qua incredibile come al solito con il nostro incredibile database pazzesco con gli appunti incredibili che vi promettiamo un giorno e cambierà la situazione cambierà quindi non avrete più questo incubo dietro e però purtroppo siamo a zero mezzi professionali quindi vi dovete accontentare di quello che abbiamo altrimenti niente è così purtroppo che devi fare mannaggia mannaggia tra l'altro oggi sono pure solo perché il mano non ci sta ma non si sta riprendendo da quello che è successo nello scontro incredibile e quindi sono solo mannaggia quando si è messo a vola e che palle e vabbè Sussi devi rispettare mano è stanca e il camera la controlla ogni tanto la controlla la mano e quindi niente che devi fare oggi si torna ai vecchi tempi allora io come al solito volo e Sussi è triste e come al solito e andiamo allora incredibile allora di cosa tratta questa serie incredibile da che amico curioso allora intanto che cos'è è un'antologia horror incredibile creata da Guglielmo del Toro che vi ricorderete vi l'avete fatto un sacco di cose tipo recentemente il Pinocchio incredibile che volevamo vedere e non siamo riusciti a vederlo ovviamente ma Sussi mannaggia non volevo proprio vedere quel Pinocchio e poi soprattutto aveva fatto la forma dell'acqua è la forma dell'acqua anche quello era molto bello questa relazione incredibile da questa ragazza umana e questo incredibile uomo pesce ve lo so sì è geneticamente modificato esatto un bellissimo uomo pesce due esempi adesso per fare due esempi famosi comunque e quindi la serie come è fatta sono questi otto episodi ogni episodio tratta di una mini storia diversa alcuni ovviamente sono fatti meglio altri sono fatti peggio a livello di storia perché alcuni non si capisce una sega e altri invece si capisce di più e hanno tutti questo finale molto alla piccoli brividi vi ricordate i piccoli brividi? c'erano anche nel God of the Sussi erano molto belli i piccoli brividi sia da leggere che da guardare e questi ci ricordavano un po' i piccoli brividi ovviamente con 5 miliardi di budget in più però avete capito insomma e quindi i finali un po' Sussi così che se li capisci li capisci non li capisci non li capisci a noi ci è piaciuta per carità però lo ammettiamo alcuni episodi ci hanno fatto cagare nel senso che non si capiva una sega per carità la maggior parte sono presi da libri quindi magari se leggi il libro lo capisci di più insomma ci siamo capiti tra l'altro gli attori sono tutti bravi alcuni sono degli attori incredibili di cui ovviamente non ci ricordiamo i nomi i puntati sono proprio degli attori che senza se non ci fossero stati loro con loro facci incredibili probabilmente gli episodi non sarebbero stati inguardabili e quindi sono queste mini storie a tema horror che trattano ovviamente di vario genere ci sono quelle proprio più horror ce ne sono due addirittura che citano Lovecraft fallendo miseramente però diciamo alla base c'è sempre il fattore oro perché se non sbaglio questa ce l'avranno notata da qualche parte e infatti appunto meno male vedete io intelligente che mi scrivo le cose quindi ce li siamo scordati due episodi sono proprio cosceneggiati allo stesso Guglielmo del Toro mentre gli altri scritti e diretti da fare i registi e infatti se vede però non facciamo battute perché sono girati bene alcuni sono venuti meglio e altri sono venuti meglio e che devo allora una cosa che è questa è una cosa che ci è piaciuto da morire vai su su allora ci ha fatto impazzire il fatto che ogni episodio lo apre lui dicendo insomma una mini sus frase apre quella specie di armadio pieno di oggetti strani che poi vabbè che sciopera e ti fa un sus introduzione incredibile quello ci è piaciuto molto esatto ci è piaciuto molto quando lui apre questo armadio incredibile tira fuori questo pupazzetto e con il nome del protagonista protagonista della storia e ti fa una frase sus d'effetto incredibile che ti fa venire hype per la puntata molto figa questa cosa tra l'altro adesso non vorrei fare battute però io sono un incredibile scheda pazzesco sus è una pianta morta guardateci facciamo quasi più paura noi di alcune puntate e questo non va bene comunque lasciamo perdere ve lo diciamo adesso ci saranno un po' di spoiler non andremo nel dettaglio altrimenti questo video verrebbe di un'ora e mezza però cerchiamo di raccontarvi un pochetto le tramette degli episodi incredibili e vi diciamo quelli che ci sono piaciuti di più e quelli che ci sono piaciuti di meno partiamo dal primo episodio quello che si chiamava l'otto trentasei vabbè il magazzino su magazzino trentasei ecco perfetto questo è il primo episodio in assoluto e parliamo un attimo del primo episodio vai sus racconta la trama del primo episodio brevemente mi raccomando allora dicevamo e questo primo episodio è abbastanza diciamo normale insomma non è niente di che però parla di questo tizio che è tipo un veterano de guerra circa che compra i diritti che poi più che diritti ci fa ride però diciamo compra la proprietà di un magazzino abbandonato che era tipo di un vecchio che non stava a bere di testa e poi mi sono perso allora il primo sicuramente è quello più tranquillo di tutti perché diciamo parla di questo tizio che compra un magazzino abbandonato che poi si scoprirà essere di un tizio che diciamo è abbastanza fuori di testa e questo magazzino è pieno di robe incredibili e lui che fa è uno di quelli che compra prende questi magazzini ci trova le robe dentro e poi le rivende cercando dei campani lui tipo era un ex soldato però il camera mi mette ok e poi che succede su su questo tizio alla fine cerca 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 e trova robe molto sus spiritiche trova una tavola spiritica che mi pare che era tedesca e con dei volumi molto sospetti dentro sempre sto magazzino allora lui giustamente dice oh mio dio posso diventare ricco e lì provano a venne questo tizio però gli dice insomma è stavata gli dice solamente che noi te lo compriamo se tu ci sganci il quarto volume che è quello più costoso incredibile e quindi la serie ti introduce questo episodio ti introduce al fatto che quel tizio del magazzino che è morto il vecchio faceva robe spiritiche con i demoni e giustamente lui e questo tizio vanno in questo magazzino incredibile e di notte a vedere se trovano il volume e scavando in questo magazzino trovano una porta segreta entra una porta segreta e che trovano lì su su e trovano che quel tizio lì diciamo che aveva fatto dei casini perché tipo c'è stato un demone dentro con tutti i sigilli e il protagonista giustamente non gliene frega niente rompe i sigilli e piglia il libro che stava proprio lì perché si scopre che il quarto libro era per tenere i demoni in questa dimensione per intrappolare i demoni e poi succede la cosa più ovvia di tutte esatto che il demone esce e si mangia tutti il demone giustamente si libera e divora il tizio il broker incredibile e poi cerca di divorare lui e qui c'è il colpo di scena finale anche se vabbè non è quello di scena lui in tutto questo aveva diciamo non aveva aiutato una poveretta che voleva ritrovare delle sue cose in un magazzino che lui aveva comprato e lui aveva detto no non me ne frega niente off dai coglioni allora alla fine lui scappando da questo demone che è veramente brutto in culo cioè praticamente come ve lo facciamo a dire è una massa di tentacoli con le gambe ve lo scusate sì che vabbè volevo fare delle battute o sé ma non mi vengono neanche a dire perché è veramente brutto lui cerca di scappare e trova una porta chiusa e gli fa aiutami aiutami dall'altra parte c'è c'è la tizia che giustamente lui ha ignorato per tutto il tempo che gli fa un dito medio grosso così e lui muore mangiato da questo mostro tentacoloso e quindi finisce con questa suspense incredibile tu non sai che cazzo succede e questo posto con questo mostro incredibile e finisce così però dall'altra parte anche quello con un finale abbastanza diciamo completo passate Milter e questo diciamo che è il più tranquillo di tutto insomma non è niente lì che è abbastanza prevedibile quello che succede e niente passiamo al secondo secondo episodio incredibile questo già ci è piaciuto di più i topi del cimitero e di cosa parla? parla di un tizio che si chiama Masson tipo sì Masson abbiamo controllato questo tizio che si chiama Masson che è un ladro di tombe incredibile che giustamente c'ha bisogno di lui avrendo le tombe ho trovato cose prendo e vendo e bisogna campare in tutti i modi e poi l'epoca capirai e che succede però lui è molto sfigato tutte le tombe che apre non ci sta mai niente e quelle poche che trova questi topi orribili di questo cimitero e poi prendono il cadavere e lo portano via guarda come sono portano via e quindi questo rimane a bocca ciutta però che succede nella sua vita ha una botta di culo che succede lui scopre che stanno per seppellire il cadavere di un tizio mi ricordo che era un politico insomma e questo è pieno di ricchezze viene seppellito con tutte le sue ricchezze incredibile e lui che allora aspetta che fanno il funerale poi che fa va di notte incredibile apre la tomba e che succede su su che i topi si erano già portati via il cadavere e lui fa la cosa più ovvia del mondo seguirli e quindi li segue in questi cunicoli terrificanti e che succede affronta i topi piccoli una topa gigante lo so è una frase abbastanza ambigua però è veramente è talmente brutta che non riuscireste mai a fare pensiero se ve lo sussate su me sta perché ride è una topa gigante cioè in realtà non si sa se è maschio o femmina però da qualche parte questi topi devono nascere quindi è una topa gigante esatto ma lui cerca di scappare da quello e precipita in una specie di tempio stranissimo una chiesa sotterranea dove lì viene attaccato da un non morto scheletrico perché lui gli ruba il gioiello e poi c'è la nostra parte preferita cioè lui scappa scappa riesce a ammazzare anche il topo gigante e che succede vede la luce vede la luce e poi che succede succede che il karma non perdona e la luce che lui pensava fosse la luce della luna era la luce di una tomba e quindi lui finisce morto con i topi che lo mangiano dentro una tomba e poi c'è la scena finale che è stupenda che sono dei tombati insomma dei ladri più insomma dei ladruncoli più giovani che aprono la tomba e trovano il cadavere di lui come per dire tu hai fatto questo e mori nello stesso modo questo ci è piaciuto in realtà sì in realtà questo forse questo è meglio del primo sì questo ci è piaciuto molto di più del primo e niente questo ci è piaciuto parecchio andiamo al terzo episodio poi terzo episodio questo si chiama l'autopsia questo pure è molto figo in realtà in realtà i primi quattro non sono male poi peggiora un pochetto però diciamo il terzo episodio è molto figo perché questo è molto alienoso e che fai te ne previ di mettere gli alieni in un contesto assolutamente non te ne previ velo su su eh sì però diciamo che io avrei preferito delle belle alienose vabbè magari con delle belle pooooo vabbè ci siamo capiti e invece mi sono trovato un cazzo di slime di merda scusate il francese vabbè scusate su se è rimasto deluso perché lui si aspettava una bella aliena sai no eh quelle aliene che si trovano avete capito eh scalzoni che poi ci siamo capiti eh che magari trovate sui siti 30 vabbè ci siamo capiti e invece vi beccate un cazzo di slime di merda tentacoloso che vi entra dalla bocca che detto così è orribile quindi questa storia si basa praticamente su questo sceriffo incredibile che chiede che tipo aiuta un suo ex amico eh perché in questo paese non stanno morendo un sacco di gente spariscono gente e muore gente in maniera strana e che succede? succede che uno di questi pazzi che si chiama tipo Joe eh provocano esplosioni incredibili in una miniera e morono un sacco di persone e che succede? questo amico dello sceriffo deve controllare i cadaveri di questi tizi per scoprire di capire perché muore gente e sparisce gente perché c'è del paranormale qui è molto paranormale e che succede? ovviamente mettere questo qui poveretto di notte fa le autopsie su questi cadaveri incredibili quando apre il corpo di questo tizio che si è fatto scoppiare incredibile eh so cazzi so cazzi nel senso che questo tizio si rianima rilevando che è abitato da un cavolo di alieno orribile di un parassita alieno un orribile tentacolo alieno che tra l'altro è una razza super intelligente vero sus sì infatti sta cosa molto Godover style molto Godover però noi ci ringraziando Dio non li abbiamo mai visti sti cosi del Godover attenti li avremo bruciati col fuoco sì effettivamente ha ragione sus e che succede? si scoppiare questo tizio colpisce questo poveretto e si mettono diciamo sdraiati vicino e il parassita parla attraverso ovviamente il corpo di quel poveretto morto e gli fa capire adesso io passerò nel tuo corpo e poi vi ucciderò tutti i maldetti però sus mamma mia e che succede? essendo parassiti hanno bisogno di un corpo del quale stare e riescono ad animare anche i corpi morti e quindi che succede? e cosa? capisce che il povero medico legale è malato di cancro e che succede? lui vuole provare a entrare dentro di lui e usando diciamo il cancro come fonte di cibo non so è brutto da dire però ragazzi è così tipo no? allora che succede? questo poveretto che è un vero eroe che fa? lo fa prima entrare e poi si taglia diciamo insomma si danneggia tutte le parti del corpo che hanno a che fare con i sensi così qualcosa entra in un corpo senza sensi e poi in un corpo senza sensi esatto e ringraziando Dio lui quando rimane qui dentro che succede? che il maio è giorno lo sceriffo arriva sente le registrazioni scopre di quello che è successo al suo amico che è rimasto intrappolato dentro il corpo appunto diciamo del medico legale senza sensi e lo brucia e l'anielo muore sono abbastanza forti in questo episodio quindi insomma però questo ci è piaciuto in realtà però non so perché questo è stato criticato abbastanza forse perché è tipo diverso dal libro dal quale è stato preso non lo sappiamo però non è il nostro episodio che ci sta più sul cazzo andiamo all'episodio 4 oh l'episodio 4 è quello che forse ci ha fatto più cagare di tutti ve lo so sì questo effettivamente non l'abbiamo capito cioè parla di questa donna che per carità è un'attrice straordinaria perché fa una parte veramente difficile che diciamo non è il massimo della bellezza e desidera diventare bella come tutte le amiche sue e quindi che succede diventa diciamo fissata con una crema io mi rifiuto di fare battute su cosa sembra questa crema però se mi guardate negli occhi guardate negli occhi del vostro sus sembra veramente boh no lo diremo e quindi che succede lei entra in contatto con questa crema tramite anche la televisione che manda tipo uno spot che parla con lei tramite il produttore di questa crema orribile che si chiama tipo alloglo si alloglo non ce lo ricordavo mai nella vita quindi lei si massaggia con questa crema disgustosa e viene contattata abbiamo detto da questo produttore che gli dice ah no tu te la devi continuare a mettere e poi che succede succede che tipo dalle bottigliette esce questo liquido orribile e forma ad un certo punto un corpo tipo e tipo lei lo vede e lo bacia mi aiuti che io sono fuori di testa in realtà non è che l'abbiamo capita molto questa cosa e poi dopo che bacia questo corpo tipo credo lei capisce che può rinascere in quel corpo e poi fa la cosa più stupida del mondo ammazza suo marito cioè che da una parte vuol dire tipo che vuole tagliare letteralmente perché lo prende a shatter lascia che io vabbè è una battuta scusate e lo ammazza no? poi lei è fissata con la tassidermia quindi lo rende un manichino vivente però il marito l'amava per com'era perché anche se non era bellissima il marito per il marito era bella e lei la ammazza va bene e poi tipo entra in questa vasca piena di questa crema orribile e rinasce bellissima che adesso scusate è una battuta incredibile ma no perdonateci ma anche quando è rinata rimane brutta in culo scusate io e noi ci aspettavamo che rinascere diventava tipo belen scusate il francese però insomma prima era proprio brutta brutta però non è che pure quando si è aggiustata insomma è brutta lo stesso scusate però che cavolo noi ci aspettavamo un tocco insomma una signorina che dici ah proprio ti casca la maschera tipo de maschera e invece no è brutta uguale quindi che cazzo ci hai guadagnato che la tua testa malata sta bene che poi avevamo pensato che forse era tutto un sogno non lo so però di fatto il marito è morto quel poveretto non lo so questo ci ha fatto abbastanza cagare lo diciamo poi episodio 5 episodio 5 pure questo da quello che abbiamo letto tipo l'episodio 5 l'episodio 6 sono quelli più odiati dall'agomini perché hanno a che fare giustamente con Lovecraft e non si sente non si vede Lovecraft vero sus beh noi non è che siamo informatissimi però insomma qualche cosa la sappiamo anche dal Goddard che Lovecraft c'era pure nel Goddard però questi diciamo che ci hanno fatto pure questi abbastanza cagare comunque l'episodio 5 si chiama modello Pikman si ok e che parla di arte e parla di questo di questo studente tipo di arte che diventa amico di questo tizio che si chiama Pikman incredibile non Pacman Pikman e che fa questi quadri orribili vero sus si fa questi quadri pieni di gente che more gente che mangia altra gente che sono tipo quadri maledetti che se tu li guardi diventi matto guardi questi quadri e impazzisci e che succede che tipo la gente comincia a guardare questi quadri e muore tra cui il protagonista che guarda sto quadro comincia a avere delle visioni orribili e che succede che all'inizio questo Pikman non se lo caga nessuno poi tipo c'è un time skip incredibile e Pikman invece è diventato un artista di successo quindi noi ipotizziamo che tutti i poveretti che hanno guardato le opere di questo sono tipo pazziti sono tipo morti e che succede Pikman ritorna nella vita del protagonista dopo un sacco di anni e va tipo a cena da lui e guarda caso anche la moglie e i figli purtroppo entreranno nella spirale della pazzia nel finale però prima di questo che succede Pikman gli dice ah tu non capisci la mia arte vieni a casa mia io non ci sarei mai andato a casa di questo pazzo ma no ma infatti cioè amico mio cioè stai da solo con i tuoi quadri belli e vai via e quindi che succede il nostro si chiama Will va a casa di questo Pikman e che succede quando vanno nello scantinato il Will dice basta io brucio tutto cioè che la fiamma purifichi questo posto infame e quindi brucia queste opere e che succede prima di fare questo spara a Pikman perché tipo non si è capita sta scena tipo Pikman forse voleva ammazzare il protagonista non si capisce perché poi tipo sembrava un pennello ma era una pistola vabbè c'è del Sus e poi c'è un pozzo e dal pozzo cosa esce Sus? esce una bella ragazza esce un altro mostro che si porta via Pikman quindi non si capisce se questo disegnava cose strane perché tipo aveva fatto un contratto con un mostro un demone non si è capito e brucia tutta la casa però che succede? dopo questo dice ah ho bruciato le opere sarà tutto finito e invece no manco per niente si scopre che in una mostra che tipo lui doveva controllare sono tutte opere di Pikman e purtroppo la moglie e il figlio hanno visto i quadri e succede purtroppo la cosa più prevedibile del mondo quando lui torna a casa la moglie la moglie si è praticamente cavata agli occhi e ha ammazzato il figlio insomma una cosa tranquilla cioè è un vero incubo il finale per carità molto triste e e che devi fa? e che devi fa è terribile tra l'altro Cameron ci sta dicendo che tipo uno dei quadri che aveva fatto Pikman prima di morire era la scena finale della puntata dove c'era la moglie che ha ammazzato il figlio Cameron vabbè dice così il Cameron non ce la ricordavamo questa cosa e quindi niente finisce così vabbè non so cosa dire poi episodio numero 6 i sogni della casa della strega oh questo ci ha fatto abbastanza cagare anche questo di cosa parla? parla adesso da questo fratello e questa sorella lui si chiama tipo Walter non ci ricordiamo mai il nome di lei che si chiama Epperly che è strano Epperly e lei tipo muore quando è piccola e la sua anima finisce in un posto che si chiama la foresta le anime perdute e questo posto orribile ve lo sussuo esatto e lui per tutta la vita anche da adulto cerca di capire tramite cose paranormali di riportare diciamo la sorella nel mondo reale che è una delle idee peggiori che potevi fare figlio mio mannaggia a te e quindi che succede? lui prova una marea di tentativi a un certo punto incontra Tizio un tipo indiano tipo che gli fa provare una specie di droga che non ci ricordiamo mai nella vita del nome lo mettiamo in editing e lui tramite questa droga vede questo fa un trip incredibile finisce in questa foresta e vede la sorellina e dice ah io ti proverò a salvare ma purtroppo che succede? che tutti i tentativi falliscono perché lì c'è stata una strega bruttissima con un topo un topo con la testa umana cioè una cosa terrificante che non gli fanno prendere la sorella esatto lui non ce la fa non ce la fa e che succede? alla fine dopo pure questo è abbastanza lungo questo dura tantissimo questo episodio alla fine dopo mille per i pezzi arriva alla casa di questa strega che si chiama Kezaia e lì che succede? lui rifà questo rituale porta la sorella da quel mondo qui la strega lo segue perché vuole ammazzarlo perché portando la sorella in questo universo però purtroppo che cosa succede? c'è tipo una regola giustamente che se quello che tu prendi devi dare quindi se la sorella vuole vivere qui lui deve morire e infatti la strega vuole ammazzare lui tipo però pure questo non l'abbiamo capito perché la strega tipo si vuole reincarnare cioè lo so ragazzi noi non è che pecchiamo di intelligenza non è che siamo due spade forse Susso è sicuramente più intelligente e beh ci si prova però ovviamente apprezzate le nostre spiegazioni incredibili noi siamo qui anche per intrattenervi poi vedete ve le puntate se le capite scrivetecelo nei commenti noi vi diciamo quello che abbiamo capito con la nostra intelligenza Godover Sosa guardate quanto siamo intelligenti due teste sono meglio di una nel caso nostro forse è meglio tre c'è anche la testa del camera quindi ci siamo capiti e quindi questa tizia alla fine si vuole reincarnare quindi alla fine che succede? poi quindi il finale come ci si aspetta il finale ovviamente è terribile perché Walter muore la strega muore la bambina cioè vola cioè va in paradiso pacificamente e poi c'è il colpo di scena finale cioè che quel topo orribile entra nel corpo del protagonista e in qualche modo lui quindi si rincarna nel cadavere del protagonista e poi vive una vita tranquilla boh cioè ma quindi il topo era quello cattivo? quindi alla fine della fiera quello che ci guadagna del topo orribile topo con la testa umana che vive in un corpo zombie non lo so vabbè se voi pensate però vabbè questi due episodi non ci avete capito una sega sicuramente non ce ne sarà uno peggio di questi due esatto episodio 7 la visione questo proprio il peggio di tutti e lo so e per carità questo è anche quello che c'ha diciamo il setting più assurdo di tutti con questa stanza assurda e di cosa parla va di questo tizio ricchissimo che sembra un vampiro ma non è un vampiro che invita quattro tizi a caso ovvero si invita un'astrofisica tipo un musicista incredibile un tizio che scrive libri e un tizio che fa cose abbastanza paranormali insomma quattro tizi e tipo questo episodio è veramente due coglioni scusate il tema veramente due coglioni non succede niente per più di metà puntata perché tu non capisci se questo tizio li vuole ammazzare se li vuole mangiare poi tutto questo c'è pure l'unica cosa bella della puntata è la tizia che non si capisce è tipo il medico del tizio vecchio vabbè e quindi non succede niente per più di metà puntata alla fine cosa succede questo tizio si va a dire ah scusate guarda il suo non orologio e dice effettivamente è passato quasi due ore ma andiamo avanti questa cazzo di trama e vanno in un'altra stanza e qui c'è tipo non lo so un sasso alieno un meteorite alieno che non fa niente e si scopre che lui ha invitato questi quattro tizi per scoprire che cazzo è questo sasso incredibile ve lo sussi eh sì però non c'ha senso questa cosa scusa è una cosa aliena ma scusa invita direttamente quattro astrofisici cioè che cazzo mi significa che mi inviti uno che fa musica uno che scrive storie del paranormale e uno che fa cose voodoo cioè ma invita direttamente quattro scienziati boh non si è capito e poi che succede la cosa più prevedibile del mondo cioè questa specie di coso orribile si apre e qui vabbè qui ammetto che abbiamo riso come dei cani abbiamo riso come delle iene si crea un alieno fatta a corna cioè se c'era mano praticamente un parente di mano e questa cosa ha il potere di sciogliere le persone tipo eppure questo diventa uno slime orribile e si fonde con il tizio vecchio ricco camera ma gli hai messi bene questi appunti mica ci ricordavamo tutte queste robe e che succede tipo muoiono quasi tutti poi scappano due tipo l'astrofisica e la tizia scappano e tipo finisce con questo finale apertissimo del tipo questo mostro orribile nel corpo del vecchio che arriva in città e ti fa capire che l'umanità è spacciata vero suss beh si insomma non ci è piaciuto tra questo e quello della crema non so qual è il peggiore però finalmente l'episodio più bello è l'ottavo il mormorio il mormorio questo è l'episodio più bello perché questo dovrebbe essere questo è stato fatto da Guglielmo del Toro tutto quanto e se vede questo è molto bello di cosa parla parla di questi due questa coppia di persone incredibili che si chiama Nancy ed Edgar e che succede loro sono ornitologi che vuol dire che guardano gli uccelli però quelli che volano esatto gli uccelli che volano birbanti e lo specifico studiano tutte le forme incredibili che fanno gli uccelli incredibili è una cosa molto spicy c'è gente che è appassionata di di uccelli e gente che è appassionata e quindi studiano il movimento degli uccelli nello specifico di un tipo di uccello che non ci ricordiamo non mettiamo niente che succede? succede che per fare questo documentario incredibile vanno in una specie di casa abbandonata in un posto sperduto dove questi uccelli nidificano ci stanno un sacco di questi uccellini e quindi cominciano a filmarli incredibili però su su esatto però qui c'è la chicca cioè che in questa casa c'è stata una strage una mamma ha ucciso il figlio e poi si è suicidata anche se non vi è spiegato il motivo e che succede? la signorina Renzi comincia a vedere spettere incredibili mi sono cagato sotto c'è stato un rumore scusate ma abbiamo sentito un botto nello stage mi sono cagato sotto vabbè questa non so se la tagliamo e c'è stato un botto incredibile nel momento in cui su su ha detto spettri vabbè sembra fatta apposta non è fatta apposta infatti adesso andiamo a controllare comunque tranquilli non è successo niente credo fosse tipo il mix dell'audio non lo so cosa è successo vabbè lasciamo perdere e purtroppo siamo in condizioni piedose ragazzi che vi dobbiamo dire il nostro stage è terribile in questo posto è terribile e guardate in quanto spazio giriamo le scene quindi che cazzo vi dobbiamo dire comunque un giorno diventeremmo famosi e quindi che succede su su e quindi stavo dicendo vedi gli spettri esatto e alla fine che succede lei ha questa relazione abbastanza burrascosa col marito perché gli è morta la figlia lei non accetta che gli è morta la figlia e quindi c'è diciamo il messaggio quale che solamente aiutando questi spettri porelli ad andare in paradiso lei si libererà del carico di aver perso la figlia e potrà finalmente dire al marito che gli dispiace per quello che è successo e piangere finalmente perché non ha mai pianto tipo no e quindi è bella la scena quando libera lo spirito del bambino è molto bella insomma questo ci è piaciuto veramente tanto e la serie è finita come vedete abbiamo un attimo messo delle immagini incredibili guarda quanto è bella questo è tipo il mobile incredibile dal quale ci sono tutti un oggetto che raffigura un po' tutte le puntate e poi come vedete abbiamo messo un attimo le immagini che sarebbero l'immagine di anteprima di ogni episodio l'anteprima di ogni episodio come vedete questo è quello dell'836 dove c'è il demone che poi diventerà un tentacoloso coso schifoso questo è mamma topa dei topi questo è l'alieno terribile questo è quello della crema questo è quello dei dipinti incredibili questa è la strega terribile questa qui è veramente delle corna e questo è il mormorio che infatti sembra la faccia di un aspetto quindi che dire conclusione incredibile la serie vi è piaciuta sì a metà diciamo nel senso se tutti i episodi avessero avuto un senso fino alla fine ci sarebbero piaciuti di più però non possiamo dire che sono girati male oppure che hanno una regia terribile oppure delle inquadrature terribili non è che siamo però a noi ci sono piaciuti una visione bella però lo ammettiamo cioè non so tutti allo stesso livello cioè vero Suss beh sì effettivamente cioè tra questi otto che ne so quelli che ci sono piaciuti almeno a me ci sono piaciuti di più sicuramente il primo perché è veramente stupido è semplice e stupido quello dei topi e l'autopsia però cioè almeno a me questi tre cioè sì per carità quelli che ha detto Suss sono quelli che hanno ad esempio a me non mi è piaciuto per niente quello della crema e quello delle corna cioè in realtà neanche quello lì della strega per il resto i primi tre forse sono i migliori i primi tre e l'ultimo questi quattro non ci hanno fatto impazzire però vabbè non lo so comunque per il resto c'è più da morire però da una parte c'è anche divertito vedere qualcosa di horror finalmente che non è che escono tante cose horror diciamo fatte così bene e direi di finire il video che il video è lunghissimo esatto direi di finire il video quindi che dire spero che il video vi sia piaciuto noi ci siamo divertiti come adesso devo fare questo video incredibile ti posso scrivere vi saluto Suss vi saluta salve a tutti e me l'ho dimenticato di saluta capri per saluta e niente noi ci vediamo alla prossima mutata incredibile 4 chiacchiere sperando che questo video vi sia piaciuto quindi taglio incredibile wow ciao